Sì sì perché è lì semi nascosta però Sì sì perché è lì Sì 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 Ok 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 poi te le ho se non vabbia publicità No non rependo niente io Ciao Diego Oh brutta pentola Io il mio computer nuovo non volevo darlo. In te! Ma io che cosa aiuto? Italia 1! La mette passione! Questo lo manderemo a casa, lo sai? Saluta, saluta, saluta! Ciao! Bella zio, dai! Italia 1! Bella zio! Italia 1! Che ti fai, Pietro? Italia 1! Adesso ti vediamo la... Italia 5! Che belli i cancioletti! Ciao! 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 Che cosa vuoi? Ciao! 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 Ciao ragazzi! Ciao! 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 Salutate la telecamera! Roby, guarda chi sei! Siete pronti? Veste a vedere le battute! Ok? Mamma, papà, possiamo stare qui in sala a giocare? Sì, sì, sì! Ok, partiamo dalla prima! Tu fai mamma e papà! Ma, voi se non la scuola... In parte dov'è? Io devo dire... Se non lo so... Ci sono... No! 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 Majorca, minorca! E adesso resterà ferma così tutto il tempo! Guardalo qua Leo! Con le noccele di Monferrat Cos'è che devo fare? Devi assaggiare la colomba di Natale Rovagnotti e le noccele di Monferrat Perché? Perché di sì Il 3% di sconto Dove sono? Il 3% di sconto per un fantadò Le stanno preparando loro? No, non lo so, però è buono, assaggialo Sono buone, mi fido È vero Giovanni Dov'è la suricata Simone? È vero papà? Dov'è la suricata? La suricata è la casa No, non è bene Secondo te? No, prima faccio Il succo dello spettacolo Con l'omba di Natale Rovagnotti Pimine basta voi Sofìa Sofìa, te reciti? No Non reciti? Te Roby? No Non recitare? Cosa fate adesso? Andate in giro Non lo so Penso di sì No 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 Non recitare? No Non recitare? No Non recitare? Sofìa I'm pericizare? Grazie. 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 Grazie.